Nuovo appuntamento con Spazio e Notizia, rieccoci ben ritrovati su Sicilia 24. Parliamo di cronaca e nello specifico di Spazio di sostanze stupefacenti a Catania. I carabinieri hanno tratto in arresto un pusher a Picanello. I militari lo hanno beccato mentre prelevava la droga dalla cassetta delle lettere. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania a Piazza Dante hanno arrestato un 23enne catanese per detenzione ai fini di Spazio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere Picanello, hanno attenzionato i movimenti di un giovane che, sopraggiunto a bordo di uno scooter in via Villa Glory, ha preso contatti con un altro giovane fermo a piedi davanti ad un palazzo. Quest'ultimo, dopo aver effettuato un prelievo dalla cassetta della posta, ha consegnato qualcosa al Centauro, che si è poi immediatamente allontanato. Il giovane Puscher, identificato poi per il 23enne, è stato visto dai militari salire a bordo di un'autovettura parcheggiata nella stessa strada e partire in direzione via Nizzeti. A questo punto i carabinieri, presagendo che il 23enne fosse in procinto di effettuare qualche consegna a domicilio e per evitare che potesse comunque proseguire la condotta delittuosa, lo hanno seguito fino a quando ha arrestato la marcia dell'auto in via Sgruppillo. Qui il giovane, sceso dall'auto, si è incontrato con un uomo che nel frattempo è uscito dal portone di un palazzo, ma i carabinieri hanno impedito l'ennesima cessione di droga e hanno bloccato il 23enne, mentre nella concitazione di quei momenti l'acquirente è riuscito a far perdere le sue tracce. Le operazioni di ricerca effettuate nei confronti del 23enne hanno consentito ai carabinieri di trovare sulla sua persona, nella tasca dei pantaloni, 5 buste in cellofan contenenti ciascuna 6,5 grammi di marijuana e un involucro contenente 3,15 grammi di cocaina, oltre a 170 euro ritenuto provento dello spaccio. La perquisizione, stessa anche all'interno della cassetta della posta del palazzo dove abita il giovane, ha dato modo ai militari di trovare complessivamente altri 9 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, mentre presso l'abitazione del giovane sono stati trovati due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e vario materiale per il confezionamento della droga. A seguito dell'ispezione del telefono cellulare in uso al 23enne, i carabinieri hanno riscontrato vari messaggi WhatsApp con i quali il pusher stabiliva il prezzo dello stupefacente e le modalità di consegna agli acquirenti. I carabinieri hanno posto il 23enne a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto ed ha disposto per lui la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Restiamo in tema, parliamo ancora di spaccio di droga, ma da Catania ci spostiamo a Scicli, nel Racusano, dove in questo caso i carabinieri hanno tratto in arresto un pusher minorenne, si tratta di un sedicenne. Consapevole è mirata l'attività della tenenza carabinieri di Scicli, nel cui Mirino si è trovato questa volta un minorenne del posto. La città barocca continua a essere scenario di una fervente attività di spaccio di stupefacenti, ma i militari dell'arma, attenti a captare le esigenze della collettività e le contingenze del territorio, non abbassano la guardia. All'interno di questa cornice prosegue il lavoro dei militari, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, soprattutto tra i giovani. I carabinieri di Scicli, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un minore trovato in possesso di circa 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino, nonché la somma contante di 30 euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio. Il sedicenne, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto tempestivamente e condotto negli uffici della tenenza, dove, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente e del materiale necessario per lo spaccio ambulante, il tutto opportunamente celato con altro materiale e custodito all'interno di un marsupio. Quanto rinvenuto, è stato opportunamente sequestrato e lo stupefacente, previa campionatura, inviato al laboratorio di analisi dell'ASP di Ragusa per gli accertamenti di rito. Il Tribunale per i minorenni etneo ha poi convalidato l'arresto del minore ed ha applicato allo stesso la misura cautelare dell'obbligo di permanenza in casa, vietando contatti con qualunque mezzo, anche telefonico e telematico, e incontri con persone diverse dai familiari. A Salemi, invece, nella Trapanese, si sono aperte le porte del carcere per due noti pregiudicati. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Salemi hanno tratto in arresto in ottemperanza un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Marsala, un pregiudicato nato a Palermo e residente a Castelvetrano, classe 96. L'uomo è un soggetto conosciuto agli operanti per i numerosi precedenti a suo carico, in particolare contro il patrimonio. È stato infatti denunciato per un furto in danno di una farmacia di Castelvetrano, ma è stato anche accusato di aver saccheggiato un appartamento a Campobello di Mazzara. In entrambi i casi, i carabinieri erano risaliti a lui attraverso le testimonianze di alcuni cittadini e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nell'anno in corso è stato arrestato dai militari della stazione di Salemi a seguito delle continue violazioni alla sorveglianza speciale dagli stessi documentate, finendo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per lui si sono aperte nuovamente le porte del carcere Pietro Cerulli di Trapani, dove lo stesso dovrà scontare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione. Stessa sorte è toccata un altro pregiudicato gambiano di 32 anni senza fissa dimora, che pochi giorni fa si è reso responsabile di una violenta aggressione nei confronti dei carabinieri con un grosso bastone. Il 32enne, durante le operazioni di identificazione e conseguente espulsione dal territorio dello Stato, si è scagliato contro i militari operanti con un grosso bastone, venendo prontamente bloccato dai carabinieri che tuttavia sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche per le ferite riportate fortunatamente lievi. A seguito dell'arresto e dell'udienza di convalida, l'uomo è stato ristretto presso il carcere di Trapani. Torniamo nel Catanese, per la precisione ad Acireale, dove la polizia, durante un controllo, ha individuato e poi condotto in carcere un senegalese che era ricercato per ricettazione dal mese di ottobre. Nel corso dell'ordinaria attività di controllo del territorio, personale del commissariato di Acireale in servizio di volante, in via Carmignano ha sottoposto a controllo un'autovettura a bordo della quale viaggiava un cittadino senegalese classe 1968. Agli esiti della verifica effettuata presso gli archivi informatici dal personale della sala operativa del commissariato, l'uomo è risultato essere ricercato in quanto colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. In particolare, il senegalese è stato riconosciuto colpevole in via definitiva del reato di ricettazione per il quale deve scontare un anno, sette mesi e 28 giorni di reclusione ed era ricercato dallo scorso 17 ottobre. Dopo gli adempimenti di rito, il ricercato è stato associato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania. Sempre ad Acireale è stato invece tratto in arresto un pusher il quale nella propria cantina aveva realizzato una serra artificiale per la coltivazione dello stupefacente. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio hanno arrestato un pregiudicato 39enne di Acireale nella flagranza di reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso della quotidiana attività informativa e di controllo del territorio i carabinieri avevano appreso che il 39enne, da loro conosciuto per analoghi precedenti, avrebbe potuto detenere droga all'interno della propria abitazione provvedendo addirittura alla sua coltivazione e dalla conseguente vendita al dettaglio. I militari hanno pertanto atteso che l'uomo nelle prime ore del mattino si allontanasse da casa a bordo della propria autovettura e quindi gli hanno intimato l'alta in via Salvatore Vigo. Sin da subito l'uomo percependo per lui l'ineluttabilità degli imminenti suoi guai giudiziari per alleviare la sua posizione ha confessato ai carabinieri di detenere a casa soltanto qualche pianta di cannabis. Successivamente però, all'esito della prequisizione effettuata all'interno della cantina della sua abitazione, i militari hanno constatato la presenza di una serra artigianale costituita da un armadio telato contenente quattro piante di cannabis alte circa un metro corredato di impianto di ventilazione, lampade e alogene per il calore, aereatore e timer. Nel prosieguo dell'attività all'interno dell'abitazione invece sono stati trovati alcuni barattoli di vetro contenenti circa 80 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, nonché una bustina con un centinaio di semi di canapa indiana. L'arrestato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che successivamente ne ha disposto la convalida dell'arresto. Notizia da Catania con gli agenti della Polizia di Stato che hanno intensificato i controlli nei luoghi della cosiddetta movida, ovvero i luoghi maggiormente frequentati dai giovani soprattutto nel fine settimana. Vediamo il servizio. Le cronache delle ultime settimane hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica il fenomeno della movida nel centro storico di Catania, caratterizzato dalla presenza di numerosi giovani di diverse fasce di età che affollano i locali con problemi per la sicurezza urbana. Pertanto, nelle serate appena trascorse, in attuazione delle direttive emanate in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura, il questore di Catania ha disposto complessi e articolati controlli nelle vie del centro storico affidati a equipaggi delle varie articolazioni della questura affiancati da personale della Polizia Scientifica, della Polizia Amministrativa e della Polizia Locale. Il lavoro degli specialisti della squadra della Polizia Amministrativa ha permesso di controllare cinque esercizi pubblici dislocati nelle aree di via Teatro Massimo, via San Giuliano, via Coppola, via Vasta, via Etnea e zone limitrofe, sanzionandone tre per ampliamento abusivo del suolo pubblico. Per gli altri due esercizi pubblici oggetto di controllo si sono resi necessari ulteriori approfondimenti e l'esame dei documenti di cui il titolare era sprovvisto e che dovrà produrre in visione negli uffici della Polizia Amministrativa. Per uno degli esercizi inoltre saranno approfonditi alcuni aspetti di natura igienico-sanitaria emersi nel corso dei controlli eseguiti nelle cucine. In relazione a quanto già accertato e a quanto potrebbe emergere all'esito di approfonditi accertamenti che saranno svolti nei giorni a venire sulle altre risultanze emerse nel corso dei controlli eseguiti e al vaglio degli uffici della Polizia Amministrativa l'adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori sui locali controllati. Nel corso dei controlli sono state identificate e controllate complessivamente 65 persone e 22 veicoli e contestate diverse violazioni del codice della strada. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di un'operazione di soccorso avvenuta invece sull'Etna nella tarda serata di ieri soccorso effettuato dai tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano insieme ai militari della Guardia di Finanza i quali hanno individuato e poi recuperato due giovani che si erano dispersi nella zona del rifugio Citelli siamo sul versante nord-est dell'Etna i due nel tardo pomeriggio di ieri, di domenica non curanti delle avverse condizioni meteo e del sopraggiungere del buio dopo aver parcheggiato l'auto nel piazzale antistante il rifugio Citelli avevano deciso di intraprendere i sentieri a monte del rifugio per raggiungere la sommità della valle del Bove sopraggiunta però la notte e soprattutto la pioggia la coppia ha perso i punti di riferimento per il rientro perdendosi così nel buio della fitta Pineta le squadre di soccorso allertate per il mancato rientro dei due hanno subito intrapreso le ricerche battendo i percorsi impervi della zona fino al ritrovamento della donna e dell'uomo grazie anche alle coordinate fornite dalla coppia stessa nei pressi di Monte Rinatu era un punto molto lontano da quello di partenza i due ragazzi erano provati, ovviamente fradici e con principi di ipotermia anche perché erano privi di abbigliamento adatto alle escursioni e in particolare alla situazione meteoclimatica del momento sono stati quindi rapidamente accompagnati con i mezzi fuoristrada fino al piazzale del rifugio Citelli e affidati ai sanitari del 118 che erano presenti sul posto in provincia di Caltanissetta invece i carabinieri hanno tratto in arresto e condotto in carcere un giovane violento i carabinieri della stazione di Sommatino hanno arrestato un 25enne di Riesi accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale il giovane avrebbe offeso e picchiato la compagna e avuto comportamenti aggressivi anche nei confronti dei propri familiari un clima di continue violenze culminato il 29 luglio scorso con minacce e offese anche nei confronti dei carabinieri quel giorno infatti, mentre la donna, incinta era stata trasportata al pronto soccorso a seguito di una lite con il 25enne il giovane era arrivato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e colpendo le porte d'ingresso aveva preteso di vedere la compagna contro la quale aveva anche gridato ti ammazzo a quel punto erano intervenuti i carabinieri la furia dell'uomo non si era però fermata nemmeno davanti agli uomini dell'arma il 25enne era stato pertanto ammanettato e condotto in caserma i carabinieri nel corso delle indagini hanno ricostruito vari episodi di violenza che la compagna dell'uomo e i familiari di quest'ultimo avevano subito nel tempo a causa degli eventi per il 25enne è stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiudiamo questo appuntamento con spazio e notizia ma l'informazione prosegue su Sicilia 24 grazie a tutti grazie a tutti